Ricetta spugna alla melassa. Reading and PCS. Benvenuti al nostro corso di cucina. Oggi la ricetta è spugna con melassa. Ingredienti. Una tazza di sciroppo di zucchero di canna, scorza di un limone, mezzo succo di limone, 5 cucchiai di mollica, un pacchetto di burro, una tazza di zucchero di canna, tre uova fresche medie, un sacchetto di farina autolievitante, 5 cucchiai di latte. Ricetta. Riscalda il forno a 180 gradi. Miscela sciroppo, mollica, buccia e succo di limone. Spalma su un piano di cottura. Sbatti burro e zucchero, finché diventano chiari e soffici. Aggiungi le uova sbattute. Versa la farina e il latte sopra lo sciroppo. Cuoci per 35 minuti finché è dorata e lievitata. Mangia con crema pasticcera, marmellata o del gelato. Se ti è piaciuta la ricetta metti like o segui il canale. Grazie.